Sindaco, problematiche post terremoto che ha colpito Rieti anche qui a Crognaleto, cosa accade? Sì, è ovvio, il mio territorio è una distanza molto vicina sia ad Amatrice dove il primo pensiero è quello dell'intero comune di Crognaleto e poi ad Accumoli, certamente che il fenomeno ha interessato di nuovo il nostro territorio nella fattispecie, siamo a Crognaleto in un paese dove c'è un costone di rocce sul lato della Madonna della Tibbia, un sito di culto molto importante che ha dimostrato qualche cedimento a seguito del sisma, c'è stato un sopralluogo di tecnici dei Vigili del Fuoco che hanno riscontrato il distacco di alcuni massi nella giornata di ieri, questa mattina sul tavolo ha avuto la comunicazione ufficiale dove alla luce di questo sciame sismico, alla luce di quanto ha detto la Commissione Grandi Rischi, cioè la possibilità di un'ulteriore tensione del territorio a seguito all'attivazione della faglia dei Monti della Laga, abbiamo ritenuto con l'esecutivo, con l'intera amministrazione di fare lo sgombero, è un termine che è antipatico che io vorrei evitare ma quando occorre occorre, lo sgombero del paese di Crognaleto, una parte del paese è interessata alla caduta di questi massi e noi abbiamo ritenuto opportuno, sentito anche il prefetto, sentito la protezione civile, la sala operativa di mettere in sicurezza il paese. I massi sono stati messi in sicurezza intanto o non c'è la possibilità di fare questo lavoro, questo intervento? Nella prima fase va ringraziato il Corpo dei Vigili del Fuoco, hanno messo in sicurezza quei massi distaccati di piccola entità per evitare che andassero a finire a ruzzolare verso l'abitato. Adesso ci sono delle situazioni che si evidenziano, che probabilmente sono in fase di distacco, l'azione tellurica non è che si dica individuabile e quantificabile, a scanzo di spiacevoli equivoci è meglio che mettiamo in sicurezza il paese. Quante persone, quanti abitanti di Crognaleto sono interessati a questa evacuazione? Il paese nel suo complesso nel periodo estivo è pieno di gente, adesso siamo nella fase terminale anche perché il fenomeno del sisma ha provocato lo spopolamento di questi territori. Io sono qui nel paese insieme alla mia amministrazione per parlare con la gente e dire loro qual è la situazione. Fare lo sgombero, dire alle persone di lasciare la propria abitazione non è bella cosa. Siamo qui, ci saranno a dir poco 15-20 persone, adesso stiamo proprio contattandole direttamente per invitarle perché poi è ovvio che diventa imperativo l'ordinanza del sindaco che sto rientrando in comune, dove ho un briefing, un'unità di crisi con i carabinieri, forestali, polizia municipale e protezione civile per appunto impastire l'ordinanza e poi l'ottemperanza dell'ordinanza. Chiuderemo il paese facendo salvaguardia dei beni, quindi a presidio metteremo chi di competenza e poi inviteremo gli organi competenti per fare una valutazione puntuale e precisa sul da farsi sul costone di Crognaleto.